Ciao a tutti! Questa è la nail art che ho fatto per il concorso di Madra Fashion. Ho fatto questa nail art sul dito medio. Per fare questa nail art mi sono ispirata ai toni autunnali. Ho disegnato un soggetto tipicamente autunnale, un fungo. Ma questo io l'avevo già detto. It's me! Aurora Star! This is my nail art! This nail art is for Hottem. I have done this for one contest and drew one mushroom and caterpillar and applied glitter. Alla prossima! 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 If you like you, subscribe me! Il video termina qua, se il video ti è piaciuto lasciami un like, condividi, fammi sapere cosa ne pensi con un commento, fai un giro nel mio canale se ti interessano i miei video. Ciao, alla prossima!